Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica sulla nostra penisola non sembra destinata a migliorare, poiché l'anticiclone inizia a mostrare i segni dell'invecchiamento della stagione estiva. Secondo le previsioni dei principali centri meteorologici, potremmo essere colpiti da un doppio attacco di instabilità nel Mediterraneo centrale, a partire già da domani, mercoledì 20 settembre, con il ritorno del maltempo. Il primo impulso di perturbazioni sembra colpire principalmente le regioni del nord e del medio tirreno, anche se altrove le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere relativamente più stabili e secche, sebbene con episodi sporadici di pioggia. Tuttavia, per quanto riguarda il secondo impulso di maltempo, previsto a partire da venerdì 22 settembre e per l'intero weekend successivo, il versante adriatico e il meridione potrebbero essere interessati da condizioni meteorologiche instabili. Per maggiori dettagli sull'evolversi della situazione meteorologica e sul peggioramento delle condizioni, invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti successivi.